Il 30% degli abbandoni di animali domestici si registra nel periodo estivo prima della partenza per le vacanze, quando il quattro zampe trattato come l'oggetto non serve più. Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti, distenti o a causa di maltrattamenti. L'abbandono è un reato punito con l'arresto fino a un anno di reclusione o con una multa fino a 10.000 euro. E se esistono così tante persone che abbandonano ce ne sono tante altre capaci di accogliere, come il comune di Galatone nel Salento attento al tema dell'abbandono, con una serie di iniziative come l'adesione al progetto Zero Cani in Canile e la microcipatura gratuita. Ritengo sia un'iniziativa unica in Italia, può dare la possibilità al cittadino che ha un cane o un gatto, quello di microcipparlo presso il nostro veterinario e gratuitamente. Proprio verso questa problematica siamo molto attenti, sempre con la collaborazione delle associazioni, cerchiamo un attimo di monitorare il territorio e qualora si verifichi l'abbandono come purtroppo a volte è successo, ci preoccupiamo immediatamente di trovare subito affido temporaneo affinché il cane non vada ad arrivare in Canile.